Raffaella ti ringrazio Giampiero il pranzo lo mangio con la bocca te ti mangio con gli occhi oddio Giampiero adesso non esageriamo è una battuta però è molto carino i toscani sono sempre forti senti Raffaella io sapevo io so le parole sbagliate della canzone però purtroppo non ti capita adesso come? non ti capita questo gioco eh ho capito perché i giochi sono estratti ogni mattina eh no anzi ogni pomeriggio per il giorno dopo e io ti richiamo domani va bene però prova con i semi di lino scusa allora vedi tu alle volte diciamo 1473 Giampiero sono tanti di più mi dispiace sono molti di più eh hai già mangiato? sì grazie meno male così non ti va di traverso voglio dire adesso digerisci bene e prova magari domani può darsi che capiti ma tanto se non è domani sarà dopo domani vi chiamerò senz'altro ciao grazie a te ciao 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 pronta Raffaella? chi sei? Giuseppe da Firenze Calenzano Firenze cioè ah va bene da Calenzano Firenze allora Giuseppe sì a un milione e mezzo mi sai dire quanti sono questi semi di lino? ovvia Raffaella scusi prima gli devo fare complimenti che lei è la donna più bella d'Italia e più simpatia d'Italia sono Giuseppe non l'ho pagato neanche il caffè non esageriamo è un'alta voce perché specialmente per la Toscana lei è una donna di molto da ammirarti di molto da ammirarti grazie grazie senti Ormi mi sta suonando il violino è la donna più simpatia no no non esageriamo comunque la ringrazio anche bellissima ancora sì ma quanti anni ha lei Giuseppe? eh io ho una certa età ma insomma di un pezzù saremo della stessa età sulla cinquantina ma come della stessa età no? o signor Giuseppe? ma lei forse ce ne ha qualcuno di meno io ce ne ho 40 e insomma forse delle donne diciamo sempre meno no no questo gli è vero glielo giuro glielo giuro ma in Toscana a Firenze ma non ci vè ma in Toscana a Firenze la non ci vè mai eh se avessi tempo mi piacerebbe molto farci una giratina ma insomma ce la farò senti signor Giuseppe guardi se si fa una caffata faccio uno spettacolo qua nei nostri teatri eh adesso non c'ho tempo perché lavoro 12 ore al giorno con pronto Raffaella capito comunque senta c'è da fare eh c'ho un po' da fare si senta eh mi dici ho fatto complimenti eh eh grazie mi dice quanti sono i semi di lino? si eh eh 1850 son Giuseppe lei ha perso la testa a farmi troppi complimenti e quindi proprio c'è molto di molto lontano siamo sono molti di più mi dispiace comunque grazie arrivederci auguri eh bella arrivederci arrivederci oddio mi ha dato 50 anni ma insomma voglio dire chi sei? Geraldo da Catanzaro Geraldo? Eraldo Eraldo scusami allora benvenuto senti che fai a casa? eh no no non so a casa ah 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 allora va bene va bene sei in ufficio eh eh non si sa ah 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 sei molto simpatico caro Eraldo allora ti facciamo presto così non ciupiamo il lavoro va eh mi sai dire qual è la parola? ah io provo ballare al posto di cantare no non è questa mi dispiace Eraldo a me di più era un bel colpo eh vabbè sarà per un'altra volta tanto lì ci vai tutti i giorni ciao 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 una simpaticissima attrice Marisa Merlini ragazza no te ne stai bella dai siediti pure accomodati qua punto fai posto alla signora Merlini ma guarda che proprio lui protagonista come stai al massimo non c'è male tu stai bene ti si vede in riso ti abbiamo visto ultimamente stai proprio in grande forma Marisa oh senti tu sei romana de Roma romana proprio romana di quelle di sette generazioni no no origine umbra ah origine umbra però tu sei nata a Roma Roma ecco senti tu hai cominciato quando avevi sedici anni con Macario tanti anni fa no no tanti tanti cominciamo ma ti presentavi in puntino molto creando molto scalpore e molti complimenti che brava me l'hanno raccontato me l'hanno raccontato sì e come ti trovavi a fare la rivista? ma io ho avuto un grande shock quando mi hanno portato il puntino in camerino perché hai detto tutto qui? perché no perché la sarte è arrivata con questa foglia di fico due foglie una piccola e una più grande e l'ha messa in camerino io ignoravo no? mancavano due giorni al debutto e ho detto cos'è la sottogonna? dice sì adesso te porto il sopra mi ha portato altre due foglioline di fico per il seno da incollare sul seno con una colla spaventosa ho detto questo è il sottocamicetta dice no guarda questo è il puntino che è il puntino? avevo 17 anni è certo sono svenuta sono svenuta tutti questi mi ammazzano a casa ah e infatti questo ti volevo proprio chiedere ma a casa tua? ma sai mio padre era un uomo importantissimo severissimo penso mia madre è mezza svenuta anche lei quando gliel'hanno detto però era da mente la passione perché io recitavo vestita così recitavi? no recitavo vestita poi c'erano i famosi finali delle donnine di Macario dove eravamo proprio nude ma più nude di oggi non è possibile guarda guarda togli la pelle noi avevamo queste due piastrine incollate allora con una colla marrone non ti dico poverine col cotone la sera le lacrime e poi quando sì sì quando era il momento di fare la passarella io stavo tutta rigida perché avevi paura che si staccasse una fogliolina non solo questo ma è lo shock che ho avuto io ti dico sono svenuta ma non alla prima alla prova poi non potevamo uscire la notte perché ti puoi immaginare in quei tempi che cosa erano le nostre uscite da teatro eravamo più importanti della Garbo capisci? eh lo credo bene erano tutte bellissime eravamo eravamo veramente e io sono stata la modella della signorina Grandifirme di Basile famoso Boccasile Boccasile sì che veniva in camerino a fare i schizzi io lo cacciavo via ah e tu eri la signora quindi avevi tutto diceva delle battute straordinarie che non posso dire in televisione che? posso dire perché però veniva questa matita di corsa sta ferma io devo andare in scena sta buona che c'evo questa litina piccola e questo mandolino proprio tutto piccolo e sopra stavi anche bene e l'ho ispirata anche i paglieri quelle reclame quelle ero io era questo corpo ah vedi non lo sapevo senti comunque voglio dire tu racconti sempre che era più divertente il retroscena degli spettacoli teatrali che è quello che andava in scena per esempio è caduta una volta una subrette nell'orchestra io avevo un abito totalmente stretto sotto ero nuda era il Grand Prix un finalissimo e mi ricordo questi è greco questo bastone al Grand Prix volevo tirarla su col bastone che dico se mi chimo che si strappa il vestito e si vede tutto perché sotto ero nuda volevo tirarla su io lo sai in quel momento le volevi dare una mano si è proprio cascata dentro l'orchestra per andare avanti e io ho detto Dio attaccati al bastone perché se mi inchino mi si strappa qui peggio del puntino Raffaella sei bravissima lascia che ti dica da vecchia volpe sei veramente nata per questo lavoro sei stupenda no grazie sei talmente stupenda che non lo sai nemmeno te però io voglio fare voglio fare i complimenti a buon compagni perché a quell'anima innocente nessuno gli dice mai niente ma non è questo io a Gianni voglio fare dei grandi complimenti tu sei formidabile ma vogliamo ricordare a buon compagni grazie grazie tutti noi lo sappiamo che è molto bravo lui come tutti coloro che stanno sempre dietro le telecamere si ma tutti i complimenti a te lui sta lì va bene che è il regista ma guarda guarda lo sanno che lui è bravo sono bravi gli autori maestro di musica che là intanto lui si prenda qualche applauso perché chi appare nel teleschermo di solito ha più complimenti in diretta però insomma ne fanno moltissimi anche perché è una trasmissione di gruppo ma parliamo di te senti ecco di gruppo anche tutto lo studio perché dal vivo vuol dire che stanno tutti veramente con le orecchie appizzate sono bravissimi sempre preparatissimi sempre pronti qualunque cosa accade sempre e tu poi come diceva il Belli è meglio perdere un amico che una buona risposta tu sei unica per questo non ti manca proprio senti parliamo invece di te 110 film tu hai fatto il tuo piccolo adesso ne vado a fare uno che è tutta una comicata perché il film non lo so se è italiano o francese che cos'è il regista è francese no il regista è francese io vado a girare a Marrakesh a Casablanca e faccio una romana che vende la verdura io eri con mia sorella morte dalle risate dice ma non è possibile che ti capita una cosa del genere il regista è francese girare a Marrakesh e a Casablanca romana che vende la verdura ma guarda che è proprio una cosa tu hai letto anche il resto del film no adesso mi ha spiegato quest'aiuto regista a Roma perfetta il provino bisogna fare però guarda romana vende la verdura a Casablanca a Marrakesh ci racconterai come è andato quando lo tornerai io vorrei provarti certo senti però per la televisione stai girando un film che si chiama 36 gradini quei 36 gradini quei 36 gradini per la regia di Luigi Perelli Perelli formidabile simpatico un pensiero dolcissimo a Luigi ci sono 70 80 attori che ruolo hai dura 6 mesi però faccio un inquirina di questo stabile questo condominio dove ci sono le storie di ogni famiglia c'ho questo marito che è Tony Ucci sulla carrozzella non ti dico di scongiure le corna che si mette in tasca Tony ogni di quando scende io sembri a pecorone perché lo porto su l'ascensore è una mossa tipica e dura fino a giugno va in onda a Natale dell'84 8 puntate non finisce mai ma è stupendo una storia stupenda va bene lo vedremo ho detto tutto senti Marisa in questi tanti film che tu hai fatto qual è uno dei personaggi più ricorrenti che ti è capitato beh tutti dicono l'allevatrice no ricorrenti l'allevatrice me l'hanno fatta girare 16 però insomma è una cosa in Italia non potevo fare altro che l'allevatrice impazzivo mi chiamavano se ero un'allevatrice non vengo mi venivano a più di a casa con la forza ma tu capisci che qui se una fa un'allevatrice deve fare 16 volte eh lo so purtroppo è una cosa orrenda però ne ho dovute girare 16 perché insomma invece ho fatto un film che io amo terribilmente ricordare che si chiamava Tempo di Villeggiatura ed era un film stupendo con tanti attori dentro il mio il mio partner era la sua partner era De Sica ed era un uomo stupendo adorabile un grande maestro tutte le cose più belle del mondo io solo a pensare a Vittoria mi commuovo ancora a diritto eh beh era un uomo stupendo non ce ne sono stati altri eh devo dire che io l'ho conosciuto una volta sola ma veramente era estremamente simpatico poi grande attore ma molto semplice nella vita soprattutto un grande maestro dei tempi mi ha dato ti ha insegnato delle cose tante tante a proposito di grandi attori io so che tu imiti bene la voce anche di un'altra grandissima attrice romana anche lei che è Anna Magnani io mi sono commossa tanto al suo ricordo perché è passata attraverso lo schermo trent'anni della nostra amicizia e quando sono arrivata su per ricordarla non avevo più la forza la voce avevo un nodo perché è passata tutta la mia giovinezza e Anna era unica figlia mia era una donna stupenda era come una zingara che ti attirava ma Maria non mi fa rabbia che ti gonfio come l'hai fatta bene come l'hai fatta amore non mi fa rabbia perché oggi non c'ho la ruzza avete molte cose in comune anche nella vita come tempo speramento ma io ho fatto tanto teatro con Anna con Totò 4-5 anni sì però voglio dire tu sei una donna battagliera piena di grinta di forza io vicino a lei ho assimilato molto il suo temperamento ecco evidentemente perché c'era già la falsità però lei diceva sempre tu posi troppo ah sì devi diventare quella che sei perché pista atteggiamenti sei mica simpatica devi essere diventa quello che sei Amari vero aveva diceva una grande quindi anche lei era una grande maestra ero civertuola sai ero un po' più giovane di Anna e allora avevo delle diventa quello che sei perché sennò non diventi nessuno hai capito verissimo verissimo bene ti posso offrire un aperitivo mentre io mi allontano un caffè volentieri buongiorno chi sei Claudio Claudio bene Claudio da dove mi chiami Santa Marinella oh che chic senti Santa Marinella com'è il mare eh così così oggi un po' bruttino un po' bruttino sì eh beh ragazzi siamo d'inverno senti mi sai dire perché ti rispondo bianco di piccolo e il molino per la barilla ma la pubblicità non si può fare ti dovrebbero mandare forniture per sei anni anche a te ciao non è quello grazie ciao ciao non è un nome pubblicitario non mi hai fatto fare veramente qua delle sgridate forza non ho mica detto che era l'ultima forza si è mutolito anche il telefono ha visto da Santa Marinella con questa costa di pubblicità non mi passano più le telefonate no no scherzo 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 scherzo